Promuovere e diffondere la cultura della legalità, perché è la cultura l'arma più efficace contro il malaffare, le mafie, la corruzione, il bullismo. Il premio nazionale Paolo Borsellino lo fa ormai da 30 anni, organizzando incontri nelle scuole con i più giovani, ma anche con la cittadinanza, con i cosiddetti testimoni di legalità, magistrati, rappresentanti delle forze dell'ordine, del giornalismo, della cultura, semplici cittadini, uomini e donne, che hanno il coraggio, la forza, di lottare contro l'illegalità, le mafie, quotidianamente. Il premio Borsellino nasce dalla volontà del giudice Antonino Caponnetto nel 1992, insieme e unitamente alla volontà di Rita Borsellino. Questo è il trentesimo anniversario di un premio che si pone nella condizione di essere un ponte rispetto alla società civile, la scuola e tutto il mondo della giustizia e delle buone pratiche comportamentali e soprattutto di esempio per una nuova promozione della legalità. Il premio è il momento finale, è il premio in cui si portano persone che hanno fatto della loro vita un esempio di legalità, e quindi magistrati, quindi appartenenti alle forze dell'ordine, ma soprattutto insegnanti, chi fa teatro, chi in ogni manifestazione della vita fa da esempio esso stesso di legalità. Hanno il ricordo di quelle che sono due ormai personalità di straordinario significato per il nostro paese come Falcone Borsellino. Quest'anno l'appuntamento è il 28 ottobre al Teatro Flaiano, tantissime le scuole partecipanti, in presenza sono più di 500 i ragazzi, ma tante tantissime scuole in tutto il territorio regionale e nazionale saranno collegate sulle piattaforme del premio Borsellino online. La consegna dei premi è l'occasione non solo per riconoscere il lavoro, l'impegno dei testimoni di legalità, ma anche di accendere su di loro i riflettori e i microfoni per parlare ad un pubblico di ragazzi, in presenza e in streaming, i comprensivi 248 di Pescara, i licei Galilei, il D'Annunzio, Mibe, Marconi e Da Vinci di Pescara, Mario De Fiori di Penne, Dascanio di Montesilvano e gli istituti superiori Alessandrini e Volta di Pescara. Sarò presente perché il Comune è parte attiva rispetto a questa operazione di legalità che si svolge a Pescara, anzi che mette Pescara al centro dell'attenzione nazionale per quanto riguarda il tema della legalità. Preseduto dal prefetto Luigi Savina, il premio a quali garanti il generale d'arma Angelo Pellegrini, Donanello Manganello, il parroco di Scampia e da quest'anno Giovanni Melillo, nuovo procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. Il premio viene svolto alla presenza delle scolaresche, quindi portare a contatto degli studenti persone e personalità che loro hanno visto sui libri di storia o vedono sulla stampa quotidiana o sulle tv, metterli a contatto per ricordare a tutti il fresco profumo di libertà, come diceva Paolo Bursellini, e non invece il puzzo del compromesso.